Prepariamo insieme la pizza con la frigitrice ad aria. Sciolgo 7 g di lievito di birra in 250 ml di acqua tiepida. Aggiungo 500 g di farina e continuo a mescolare con una forchetta. Aggiungo 6 ml di olio e 10 g di sale. Impasto con le mani fino ad ottenere un panetto compatto che lascio lievitare per almeno 2 ore. Divido l'impasto su una spianatoia infarinata, formo i panetti che lascio lievitare per almeno un'ora. Stendo la base che andrò a condire con la passata di pomodoro. Dopo aver preriscardato la frigitrice ad aria per 5 minuti a 200 gradi, inforno la pizza e cuocio per 5 minuti sempre a 200 gradi. Farcisco con mozzarella e cuocio ancora per il tempo indicato nella ricetta. Farcisco con mozzarella